Hello and welcome back! Bentornati a un'altra lezione con Open Minds. Oggi andiamo a parlare di Future Continuous. Quando si usa il Future Continuous, questa forma continua del futuro? Allora, usiamo il Future Continuous quando pensiamo a un determinato evento in corso in un periodo futuro. Per esempio, I will be working on Sunday afternoon. Dove io starò lavorando domenica pomeriggio, dove io sto pensando a un particolare momento nel futuro, Sunday afternoon, domenica pomeriggio, e mi immagino che io in quel determinato momento starò facendo una determinata cosa, in questo caso lavorando. Ok? Si può usare anche per parlare, per esempio, di una cosa che supponiamo, come il clima, quello che succederà con le condizioni climatiche. Per esempio, un evento futuro. It will be raining on Saturday. Per esempio, it will be raining on Saturday. In un determinato periodo, Saturday, nel futuro, cosa starà accadendo in quel periodo? In quel momento, starà piovendo. Andiamo a vedere come si forma il Future Continuous. Allora, nella forma affermativa, si forma così. Subject will più be più verbo in forma ing. Esempio, I will be watching. Io starò guardando. Io starò guardando. I will be watching. Come si forma il negativo? Soggetto. Più will più not. Più be più verbo in ing. I will not be watching. Io non starò guardando. Come si forma l'interrogativa? Come si forma l'interrogativa? This is the question form. In the question form, the auxiliary will goes right in the beginning. So, will più soggetto, più be, più verbo nella forma ing. Andiamo a vedere degli altri esempi. Ora, in forma affermativa positiva. It will be snowing. On Friday. It will be snowing on Friday. E un altro esempio di frase negativa. With the future continuous. I won't be working tomorrow. I won't be working tomorrow. Io non starò lavorando domani. In un determinato momento che è domani. E l'ultimo esempio, un'altra interrogativa. The future continuous. Will you be coming to the party with me? Will you be coming to the party with me? Okay, bye-bye.